In collaborazione con Il riso, latte, pane, tutto aumentato. La vostra spesa cosa racconta? Che non ce la facciamo più. Qual è il prodotto che più la sorpresa per il rincanto? Tutto, tutto un po', dalla verdura ai frutti, tutto. Zucchero, latte, olio d'oliva, prezzi al consumo sempre più schizzati in alto. Com'è la vostra spesa? La seconda. No, se compro meno, è tutto qua. Zucchero non posso maniare, dolci non posso maniare, quel non posso maniare, perciò più bello è così. Ma quando va a fare la spesa, per esempio, riempie il carrello? Sì, un quarto. Cerco di prendere solo quel miserno giornalmente. Frutti e verdura, pesce e carne, qual è la cosa che l'ha aumentata di più, secondo lei? Un poco tutto. Frutti e verdura, secondo me. Comunque basta prendere il necessario. Non prendere cose, è molto anche sulle offerte. Lo vedo che ha fatto la spesa e stiamo proprio parlando dell'aumento dei prezzi. Cosa ha comprato? Un sacco di soldi. Ho comperato qui frutta e verdura. Quando va a fare la spesa? Con 50 euro una volta riempivi il carrello. Adesso? Mezzo. Mezzo carrello. Mezzo carrello. Sono spropositamente aumentati, anche esageratamente proprio. Con 50 euro si riempiva il carrello una volta. Ma con 50 euro? Come cambio 50 euro? E dopo 5 minuti non sono più niente in tasca. Ho comprato poche cose perché faccio un disavvio a compleanno. Tanti auguri signora. Grazie, grazie, grazie. Le faccio una domanda. Un compleanno costoso, visto che i prezzi stanno aumentando il supermercato, qualsiasi genere alimentare. Ho preso 10 olive, un po' di carne impanata piccole e adesso faccio qua in bar per non, insomma, se non è troppo spesa. La carne e soprattutto l'olio d'oliva. Ho aumentato lì molto. La mia spesa tipo è comunque alimentazione sana, avendo una bimba piccola, però comunque c'è questo aumento e gli stipendi sono rimasti invariati. Esatto. Sono andata stamattina alle 8, la sera frutta. E verdura anche? La verdura anche, ma soprattutto noi mangiamo tanta frutta e quella ne frega. E poi bisogna scegliere tra carne o pesce? Prendete tutte e due? Siamo abbastanza vegani, no vegani, vegetariani, per cui va ben così. Allora, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ringa. Vi ricordo subito il 340-700-6567 per intervenire. La mail a ringa.chiocciola.it per raccontare un po' le vostre storie o quello che succede e segnalazioni. Dunque, vi dico subito che è una giornata, sono giornate in cui è successo davvero di tutto dall'istituzione oggi della Commissione Covid in Parlamento. quindi capire che cosa è successo con la gestione del governo Conte e Speranza, quindi grande litigio ovviamente tra le parti, con il Movimento 5 Stelle agguerrito che lascia l'aula, il PD che non vota l'istituzione di questa Commissione, che il centrodestra, Fratelli d'Italia in particolar modo, aveva promesso fondamentalmente. fino all'intervento del Tribunale di Trieste oggi sul tema del fine vita che vi abbiamo raccontato nel telegiornale, c'è il bilancio, o meglio, l'assestamento di bilancio per quanto riguarda la Regione, arriviamo attorno al miliardo, quindi in queste ore è proprio un tema importante, quanti soldi sulla sanità, polemica su questo, sulle liste d'attesa e via dicendo. Tanti, tanti temi. C'è anche la condanna, sapete, per quanto riguarda il Ministero all'interno per una cosa che ci riguarda e molto da vicino, di cui abbiamo parlato tantissime volte, che era nel programma del centrodestra, cioè quello delle riammissioni, nel nostro caso in Slovenia. Ed è un po' una sentenza shock, proprio perché interviene anche sul lato politico su una parte di programma, definiamolo così, che era di difficile applicazione, è inutile che su questo però ci nascondiamo, ma è una sentenza importante, ne parleremo nella seconda parte, perché come vedete al titolo c'è una di quelle cose che proprio mi manda ai pazzi, buonasera anche a chi ci scrive, è quello che sta succedendo. Non vi ho detto, domani mattina, tra l'altro, visto che approfittiamo della parte iniziale per una serie di annunci, nel corso di Sveglia Trieste andremo avanti, seguiremo il sorbolo delle frecce tricolori, sarà una grande festa, quindi insomma saremo in diretta domani mattina per coloro che magari non possono seguirla da Piazza Unità a vedere questo spettacolo, lo vedrete, avrete la possibilità di vederlo in televisione se vorrete. domani sera avremo il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza nella prima parte, il presidente della regione Massimiliano Fedriga per l'ultima puntata di Ring, prima della pausa estiva. Nella seconda parte, questa sera, attorno alle 10, invece torniamo sul caso Resinovic e io vi dico, per coloro che seguono, facciamo sempre un po' il punto al quale siamo arrivati, in realtà stasera scopriremo molte cose nuove, perché oltre ai colleghi e amici giornalisti avremo ospite Nicodemo Gentile, che è il presidente dell'associazione Penelope e avvocato di Sergio, fratello di Liliana. Attenzione perché nella seconda parte di Ring scopriremo molte cose, forse che non ci ricordiamo, che non sono state dette o che l'avvocato ci racconterà e che sono secondo me molto interessanti. Dicevo, una cosa che mi manda dei pazzi è questa, il salario al minimo, che poi vuol dire alziamo il salario, facciamo il salario minimo, il salario minimo, un po' di dibattito che quello, sapete, sta nel confronto politico di questi mesi, ma il problema è che mentre scende l'energia, mentre scende il gas, mentre scende la benzina, scende tutto, quando andiamo a fare la spesa è un mutuo ogni volta, non nascondiamoci dietro un dito anche in questo caso, con aumenti pazzeschi anche da una settimana all'altra, ancora oggi, questo è il problema secondo me del nostro Paese. Le giorni scorse abbiamo raccontato, perché tocca le tasche di tutti, chi ha di più, chi ha di meno, chi ha di meno viene massacrato ancora di più, quindi che farne, perché quelle cose le deve comprare, mangiare, deve mangiare. Abbiamo lanciato la proposta nei giorni scorsi anche in Veneto nelle nostre trasmissioni dello sciopero della spesa, cioè scegliere un giorno, due, in cui nessuno di noi si reca a fare la spesa per vedere di mandare un segnale, non so se questa piccola stupidaggine può servire. Saluto e ringrazio il capogruppo di Fratelli d'Italia e Consiglio regionale, Claudio Giacomelli, buonasera, ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. Fausto Tomasello, Partito Democratico, segretario Pordenone, buonasera Tomasello. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Forza, prima volta Ring, dai, sfaccia forza. Scesimo poco. Allora, saluto e ringrazio davvero Angelo D'Adamo che sarà con noi nella prima parte della puntata di Ring, perché ho voluto fortemente, responsabile di Fed e Consumatori di Influenza, Giulia, perché questa cosa veramente mi fa impazzire. Mi fa veramente impazzire. Cosa sta succedendo? Perché continuano ad aumentare di settimana in settimana? Fa impazzire tutti quanti. Io richiamo solamente un evento che per noi è stato storico ed era il 10 giugno dell'anno scorso. Abbiamo fatto grandi manifestazioni sotto tutte le prefetture d'Italia lanciando un'iniziativa dal nome Pentole Vuote. Era evocativa di ciò che stava già succedendo e di ciò che oggi riscontriamo essere ancora molto più peggiorato. Il punto principale è, certo, va bene comunque quello che si può proporre, lo sciopero della spesa, un giorno, due giorni. Quello crea un danno, no? Crea un danno comunque. Ma parte che è complicato comunque mettere insieme tutti i consumatori perché c'è una divisione straordinaria sia nelle possibilità che nelle sensibilità anche su questi aspetti. ma il problema è controllare un po' tutta quanta la catena perché in situazioni del genere c'è chi si impoverisce di più e chi si arricchisce. Cioè questo è il gioco che viene effettuato. Bisogna capire dove sono nei gangli della catena le situazioni di privilegio che si creano con le crisi. Le crisi servono a questo poi sostanzialmente. Sono generate anche per questo perché c'è chi deve arricchirsi di più e chi deve stringere di più la cinghia. Allora noi abbiamo chiesto con forza a tutte le prefetture anche e quindi vedremo di realizzarlo. C'è una disponibilità da parte della regione, dell'assessorato nostro di riferimento, di costituire dei presidi, degli osservatori certi comunque, ma non per fare i poliziotti del sociale. Il controllo dei prezzi. Il controllo dei prezzi. Cioè un mister prezzi locale. Un mister prezzi locale. Ma che abbia anche poi un confronto certo perché questo non fa bene neanche alle categorie del commercio. Cioè tutto sommato chi ci guadagna non si vede. Ci perdono le categorie, le figure che comunque sono rispettabili a vantaggio di pochi. Prima osservazione che le faccio. Aumentano certo perché il produttore, a parte il dramma dell'Emilia Romagna dove si produce molta frutta, molta verdura del nostro paese e di gran qualità. Però voglio dire, il produttore appunto, ha aumentato perché ha visto aumentare i suoi costi di produzione e quindi quel prodotto può essere aumentato per quel motivo lì. Ma io non sono così convinto che questi continui aumenti anche adesso siano in linea, con quello che ho detto e che magari il produttore sappia che il suo prodotto viene venduto a molto di più rispetto alla percentuale che lui percepisce. Se fosse così collegato noi dovremmo avere degli aumenti in linea con l'inflazione. Perché questo potrebbe lasciare un senso. Tra l'altro l'inflazione è diminuita al 6,4 e invece gli aumenti sono oltre le 11. E come si giustifica che qualcosa aumenta invece un prodotto aumenta del 50%? Come lo zucchero il 46% in più. C'è infatti un elenco straordinario. Quindi vanno individuati i punti speculativi dove si creano le speculazioni. Se non riusciamo a far questo… Allora, il Ministro Urso che ha già convocato le compagnie aeree, perché anche lì ci sono stati aumenti del 50%, 46% anche lì mi pare su alcune tratte, è chiaro per quelle dell'estate via dicendo. Ha in animo, mi sembra di capire, un intervento anche su questo fronte. Se non ci lamentiamo noi, chi lo fa poi? Prego. Ma qui che cosa è successo? È successo l'altro anno, abbiamo avuto un'inflazione terrificante, perché parliamo di una media del 2022 dell'8,7, ma soprattutto negli ultimi tre mesi dell'anno 12% dell'inflazione. I due terzi di questa inflazione derivavano dal rincaro dell'energia e delle materie prime. Così il governo Meloni viene eletto a ottobre, fa una finanziaria a tempo di record e a tempo di record mette una cifra record per abbassare alle famiglie e soprattutto quelle in stato di basso reddito, ma anche alle imprese investe una cifra record. Praticamente tutta la finanziaria libera di dicembre è stata puntata sull'energia. Ed ecco che l'energia scende. L'energia scende, le materie prime restano ancora alte e quindi questo è un primissimo risultato. Qual è il problema? Il problema è che questo calo complessivo dell'inflazione, perché l'inflazione è calata, cala sull'energia dove è intervenuto il governo Meloni e non cala sugli alimentari. Allora qui le cose sono due. Ci sono gli ottimisti e gli arrabbiati. Gli ottimisti dicono che molti dei prodotti, ma certo non la frutta e la verdura, che troviamo nel supermercato sono stati prodotti prima che intervenisse la Meloni e quindi costano caro. Ma la verità, e i dati lo dicono, ma questo a livello europeo, è che le aziende, in particolare le aziende della grande distribuzione dei supermercati hanno guadagnato. Cioè nel periodo dell'inflazione, dove normalmente una volta l'impresa andava a scaricare l'aumento dei costi, almeno in parte sui propri ricavi, questa volta li ha scaricati, tutti d'accordo, completamente sull'ultimo cittadino acquirente. E questo ha fatto sì, guardavo un dato impressionante. Negli ultimi due anni i grandi rivenditori supermercati, i 42 più grandi d'Europa, hanno fatto un extra gettito di 28 miliardi. Contemporaneamente i loro stessi lavoratori non hanno avuto un aumento di paga, per dire, ma anzi hanno avuto le paga fisse e poi hanno avuto ovviamente la diminuzione del potere d'acquisto che tutti noi, quando andiamo a fare la spesa, riscontriamo. Siamo l'Ucraina, qua scrivono, la guerra, qua c'è un'accusa, una lettura politica di parte. Ma ci sta la lettura politica, però c'è un tema che è quello della guerra, però secondo me siamo oltre qua, non c'entra niente. Ma il tema della guerra ha alzato i prezzi, indipendentemente da cosa fa l'Italia con tutto rispetto, che ho per il mio paese, ha aumentato a livello mondiale i prezzi dell'energia e delle materie prime. Quando però il governo è intervenuto sull'energia, contemporaneamente i prezzi degli alimentari hanno continuato a salire. E questo? Cosa volete fare? Secondo me, ovviamente, adesso dobbiamo aspettare di vedere se i prezzi riscendono con le cose prodotte quando è sceso il livello dell'energia, ma secondo me non sarebbe da escludere di fare quello che ha fatto il governo italiano nei confronti delle imprese dell'energia, che è andata a tassare l'extragettito. Qua stiamo parlando di un extragettito che non ha giustificazioni, cioè non solo hanno scaricato i maggiori costi sui consumatori, ma nel momento in cui i consumatori affrontano una situazione emergenziale, usciamo dal Covid, adesso c'è la guerra, c'è la crisi energetica, eccetera. Quindi i consumatori hanno continuato a sentire questo problema dell'inflazione generale, ma mentre l'inflazione scende gli alimentari continuano a salire e i consumatori stanno accettando tutto. A questo punto esattamente... Ecco, i consumatori stanno accettando tutto, cioè non c'è una protesta, non vede andare in piazza, no? Però a questo punto, esattamente come si è fatto con i grandi produttori dell'energia, se i prezzi non scendono in corrispondenza con la discesa dell'inflazione dovuta anche agli interventi governativi di Giorgia Meloni sull'energia, che non ha fatto altro, perché oggi ci dimentichiamo le bollette di dicembre-gennaio, ma se non c'era il governo, però nel momento in cui il governo investe anche sulle imprese, perché erano famiglie a basso reddito e imprese i più grandi beneficiari, una cifra che non ha precedenti nella storia del paese e alcuni settori dell'impresa, però, non solo si limitano a non perdere, è giusto, un'impresa non deve perdere, ma addirittura fanno extra profitti di miliardi, questi extra profitti vanno passati. Allora, non so, qui dicono le sanzioni alla Russia, ho capito, ma le sanzioni alla Russia ci sono state anche prima, a diverso tempo, non certo quelle di oggi, però non abbiamo visto schizzare. Ma francamente non è che compriamo la verdura dalla Russia, no? Ma sì, ma appunto, ma allora, Tocasello, voglio sentire se lei mi segue in questo ragionamento, perché io dico, eravamo sconvolti per quelle bollette, eravamo sconvolti per la benzina, e poi tutto, sale, schizza quando deve salire, poi quando scende, scende con calma, qualsiasi prezzo, siamo disposti ad accettarlo, ma non che ad ogni settimana invece aumentino ancora, cioè capisce perché io dico che non ci arrabbiamo e questa roba qui mi manda veramente i pazzi, perché la famiglia che è in difficoltà, il single che è in difficoltà, paga molto di più, è molto più in difficoltà adesso perché certi prodotti, perché mangiare deve continuare a mangiare, e quindi l'abbiamo ancora messo più sull'astrico rispetto a prima. Prego. Sì, confermo, l'inflazione continua a mordere forte alle caviglie delle famiglie italiane, dovuto anche il fatto, aveva messo prima anche il consigliere regionale Giacomelli, mi sembra, anche del fatto dell'incapacità del governo Meloni di affrontare l'aumento dei prezzi, specialmente dei generi alimentari. Non ci sono state prese misure contro l'inflazione, come è successo invece in Spagna. Quindi dire, è inutile parlare di aumento del PIB se poi questi aumenti dei prezzi riducono i redditi, specialmente anche il reddito, il reddito... Aspetti, 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 facciamo finire Tomasello, aspetti, aspetti, facciamo finire Tomasello, dopo replica, dopo replica, prego Tomasello. No, se lei abbia detto questo, mentre siete intervenuti sull'energia, mentre i prezzi dell'energia sono calati, certamente sui prezzi degli alimentari, così come è stato prima dimostrato dal servizio che è stato trasmesso prima, e come io constato quotidianamente quando vado a fare la spesa, e anche per motivi professionali dal momento che io tratto moltissimo di sovraindebitamento, vediamo che c'è un folle aumento dei prezzi, ma non ci sono state delle misure da parte del governo Meloni ad affrontare il problema di questo aumento dei prezzi. Oh mamma mia! Quindi questa è la questione che io ho constatato. Io l'unica osservazione, Aspetti, faccio a quello che ha detto Tomasello, voglio sentire lei adesso, sì, allora, che in realtà, e l'ho detto anche prima, l'inflazione è arrivata a quelle cifre lì pazzesche, ora è scesa, è scesa a 6,4, poi mi dirà da Damo, no? Cioè mentre i prezzi continuano a salire, questa è la cosa, scende questo è aumentato almeno del 12%, ma scusate, dividiamoci su tutto, e per l'amor del cielo, destra e sinistra si possono dividere, ma un rappresentante del Partito Democratico, che nell'ultimo mese di governo del Partito Democratico, a ottobre, aveva l'inflazione al 12%, aveva il 12% a ottobre, quando viene eletta Giorgia Meloni, adesso abbiamo l'inflazione al 6,4 e mi devo ritrovare, perché poi ripeto, ogni tesi è sostenibile, ma che nell'ultimo mese del PD ci sia stata l'inflazione al 12% e in questo mese di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni c'è l'inflazione al 6,4, sentire che non ci sono state misure con le inflazioni è addirittura lunare, almeno sui numeri, almeno sui numeri un po' di sincerità, qual problema un altro? esattamente come l'inflazione… Ma scusate, ma è un aumento dei prezzi dei generi alimentari, per quale motivo continuano ad aumentare? Per quale motivo il governo Meloni non sta prendendo misure su queste cose? Signori, tutti i soldi che si avevano si sono messi sul caro energia, perché se no non è che si passava dal 12 al 6 con tutto rispetto per il PD stando fermi, si è passati dal 12 al 6 perché i due terzi dell'inflazione al 12 derivavano dall'energia e dalle materie prime. Albicocca Euro 7,80, un anziano ne ha coprato solamente due, cosa ne pensate? Vergognoso. Dopodiché sia chiaro, ci sono dei settori merceologici, oggi parliamo degli alimentari, ma potremmo parlare del farmaceutico, il farmaceutico ha fatto 47 miliardi di extragettito, quindi è chiaro che si è intervenuto, dopodiché sugli alimentari, l'ho già detto, la cosa è chiara, o i produttori a fronte dell'abbassamento dell'inflazione, a fronte dell'abbassamento dei costi di produzione, abbassano i prezzi che in questo momento hanno alzato, approfittando del fatto che i consumatori sono bombardati da notizie terrificanti da tre anni e ormai accettano tutto, o si abbassano dopodiché. Per quello le voglio parlare, perché invece bisogna dirlo, allora scusi Giacomelli, prego D'Adamo. Però è chiaro un dato, che se c'è tutto questo extragettito registrato, a chi compete intervenire su questi guadagni, perché extragettito cosa vuol dire? Un guadagno eccessivo, improprio. Chi deve intervenire su questo versante? Ed è chiaro che qua è il ruolo della politica, io non dico altro, lo accenno solamente con l'aspetto. Riguarda la politica, è un problema di sistema? Va bene, c'è un sistema che oggi non va, perché il consumatore è vessato, il consumatore è tartassato fino all'inverosimile e allora bisogna trovare un sistema che modifiche questo stato di cose. E' stato già fatto l'intervento sulla questione dell'energia, è stato fatto poco, perché oggi nella catena si individuano dove sono i momenti e le responsabilità speculative e lì va colpito, se non facciamo questo… Sull'energia la legge di bilancio non è vero, su 35 miliardi erano, ne metteva 21. Ma il problema sono i guadagni impropri che… No, ma stiamo parlando dell'estrategia, voglio capire perché dopo dobbiamo passare ad altri temi. Ma le imprese… Ma potete bloccare i prezzi? Allora, bloccare i prezzi in modo generale, oggi dove c'è la catena mondiale del valore, non è semplicemente possibile, tranne alcuni singoli pezzi. Oggi quello che bisogna fare, se i prezzi non caleranno, ora siamo, da un punto di vista dell'energia… Guardi questo sms, è onore del vero, lo dico ancora una volta, era la famosa legge voluta dal governo Draghi, che qui abbiamo più volte commentato, che l'effetto è stato… Voi l'avete riscritta, l'avete cambiata, però vorrei capire anche qui se poi si risolve il dato centrale è che ci sono non le piccole imprese che non riuscivano a pagare le bollette, ma le enormi imprese che si sono presi i fondi per l'energia, ma hanno alzato i prezzi lo stesso, perché a quel punto c'hanno… Allora, Tomasello… Dopodiché una cosa, qua adesso tolgo la giacchetta di Fratelli d'Italia, vado a vedere le previsioni sia europee per l'Italia che di Banca Italia, dicono prossimo anno 2 set di inflazione, 25-26 il 2, che è quello che dovrebbe avere un paese normale, cioè il 2%… Il problema è che stiamo rischiando la recessione invece di… Ma il problema è che c'è un settore in particolare, dopodiché se la… non dimentichiamo perché Giorgia Meloni ha polemizzato apertamente il 28 giugno direttamente alla Camera, se la risposta dell'Europa… E aumentare i tassi, quindi alzano i mutui e tutto. Allora, Tomasello, poi da Damo che chiudiamo questa parte voglio arrivare al tema migranti, prego Tomasello, cosa vuole dire ancora? Ma niente, anch'io concordo con quello sulla tassazione dell'extragetito di quelli prese che in questo momento stanno guadagnando di più, potrebbe essere una misura simile come quella presa anche in Spagna. Noi come opposizioni abbiamo proposto appunto il cosiddetto salario minimo che dia più forza quindi agli stipendi dei lavoratori dipendenti. Ritengo che questo del salario minimo sia un atto di responsabilità per contrastare la povertà e le disuguaglianze che in questo periodo si evidenziano in modo particolare. Va bene, D'Adamo? E qui aggiungo solamente questo, noi abbiamo parlato essenzialmente di prodotti alimentari ma gli aumenti non sono fermi e circoscritti solo a questo settore. Se pensiamo solamente a ciò che accade sul settore vacanze, vacanze, veniamo fuori dal Covid, c'è un deciderio, questo lo registriamo nelle nostre sedi, è esasperato di dire voglio ricominciare a vivere, c'è gente anche che si indebita pur di… e l'indebitamento che cosa comporta? A parte che costa ancora di più l'indebitamento, quindi è un cane che si morde la coda. Gli aumenti sono stati in tutto il settore comunque, dai trasporti, trasporto aereo innanzitutto e prima lei giustamente citava comunque l'iniziativa anche del governo e le nostre pressioni per per verificare un po' ciò che è lecito e ciò che non è lecito, perché il gioco anche del costo del cherosene non sta neanche in piedi. La brandina al mare, che è aumentata del 50% in generale, come si stia? Questa mi era sfuggita ma diciamo che è un tema sensibile. Ma certo, abbiamo anche delle tabelle, noi abbiamo un osservatorio che ogni anno comunque fa i rilievi… La brandina è quella che mi compro io, il lettino… Quando vado in uno stabilimento… E' l'ombrellone, cioè aumento di costo del 30, del 50%, come si spiega? La colpa dell'energia, la colpa della guerra, cavolate, cavolate. Allora è necessario comunque che ci siano strutture adeguate di controllo e di intervento. Allora, scusate, ma veramente io volevo cominciare da questo perché è una cosa che mi fa veramente arrabbiare e non vedo un po' di… ognuno di nuovo a fare la spesa, si lamenta, sta zitto e torna a casa, paga, muto, tasi. Però se non ce lo diciamo tra noi, se non cominciamo ad arrabbiarci… Noi rifaremo in autunno comunque una grande iniziativa su questo aspetto. Allora… Vediamo qual è questa sentenza shock comunque definita così per quanto riguarda le riammissioni. A tra poco. Seconda sentenza del Tribunale di Roma dopo quella del 2021 sui respingimenti dei migranti in Slovenia. Questa volta il Ministero dell'Interno italiano è condannato a risarcire oltre 18.000 euro a un richiedente asilo pakistano trattenuto e respinto nell'ottobre 2020 dall'Italia verso la Slovenia e poi a catena verso Croazia e Bosnia. La decisione del Tribunale di Roma, spiega ai nostri microfoni, il Presidente ICS Gianfranco Schiavone ha messo nuovamente in evidenza l'illegittimità della procedura di riammissione al confine orientale italiano. In questo caso abbiamo una situazione nella quale c'è la prova della presenza della persona al confine italiano. Si tratta di un richiedente asilo pakistano che il 17 ottobre del 2020 ha cercato di chiedere asilo al confine triestino, italo-sloveno, ma è stato oggetto di un respingimento, cioè di una riammissione informale. Da questa riammissione informale in Slovenia è seguito, come purtroppo sempre, una catena di riammissioni, tra l'altro con uso anche di forti violenze fisiche sulla persona, la quale è stata poi rigettata oltre il confine bosniaco e è stata abbandonata a se stessa, non è andata in alcun centro di accoglienza ed è vissuto all'aperto, in pieno inverno. Il giudice ha quindi riconosciuto la violazione delle normative nazionali ed internazionali in l'impossibilità appunto di non prendere domande dalla richiesta di asilo, l'illegittimità di non dare nessun provvedimento, di non notificare alla persona nessun provvedimento, quindi la cosiddetta informalità delle riammissioni e ha ulteriormente sottolineato che l'accordo di riammissione italo-sloveno, oltre a non applicarsi in nessun caso ai richiedenti asilo, comunque non è una norma, ma è un semplice accordo che deve sottostare alle norme europee e internazionali. Quali dunque le aspettative e gli auspici per chi si occupa dell'accoglienza dei migranti da questa sentenza? Ci auguriamo che questa sia veramente la parola fine di una storia veramente orribile, che è orribile per quello che è successo a Trieste, ma anche orribile per la propaganda culturale e politica che si è fatta e che si è fatta fino adesso. Allora, così appunto Schiavone, Presidente dell'ICS, tra l'altro tra poco vi farò sentire anche Pierpaolo Roberti che è assessore che segue anche il tema dell'immigrazione, domani sera lo domanderemo al Presidente Fedriga che sarà il nostro ospite. Tomasello mi dice una cosa, con questo Pietratombale ed è anche un segnale politico forte, qua stiamo dicendo che il Ministero ha sbagliato, che le riammissioni in Slovenia non si devono fare, per di più rimborsiamo risarcimento ai migranti o coloro che comunque sono stati riammessi. conferma che la destra della Meloni ha fallito e sta fallendo nelle politiche migratorie, ci sta isolando dall'Europa, constato che sono raddoppiati gli arrivi e purtroppo non sono in grado di poter gestire il fenomeno migratorio e la conferma, io non la ritengo una sentenza shock, è soltanto la conferma del loro fallimento. L'ho definita shock nel titolo perché comunque interviene sulla politica e una scelta. Non c'è niente da ridere, perché io non mi permetto di ridere a lei. Giacomelli, perché rideva? Perché la riammissione impugnata non è stata fatta durante il governo Meloni, ma durante il governo Draghi in cui c'era il PD al governo. Sì, 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 va bene, ma in ogni caso… In ogni caso cosa? Il fallimento del governo Meloni? In ogni caso, per me, le vostre politiche migratorie… Ma non c'eravamo il governo, eravate voi? Va bene, sì. Eh beh, bene sì, ma che cosa? Ma che cosa? È una riammissione del 2020. Sì, prego? È una riammissione del 2020. Va bene, in ogni caso il governo conferma in ogni caso che non riuscite a governare il fenomeno migratorio. Ma come conferma? È una riammissione del 2020. Quindi il governo Conte II. Io sostengo che voi, per quanto riguarda le vostre politiche migratorie in questi 7-8 mesi, sono stato un fallimento. Perché continuano ad arrivare i migranti, i migranti sono più che raddoppiati nei confronti del 2016. Va bene, allora parliamo intanto in generale sui migranti. Il rispedirli al paese d'origine per ciò che riguarda la rotta mediterranea, al luglio di quest'anno, rotta mediterranea parliamo, rispetto a luglio dello scorso anno, ne abbiamo rimandati a casa più 32%. Poi, vabbè, sarà un fallimento, ne abbiamo rimandati a casa più 32%. Tornando alla rotta balcanica, le riammissioni erano già state sospese, questa riammissione era del 2020, ma era stata sospesa le riammissioni dopo una prima ordinanza del Tribunale di Roma. Lì, effettivamente, il governo in cui c'era il Partito Democratico aveva detto, boh, non le facciamo più. Le riammissioni sono riniziate, ci si prova perché è durissima. La Slovenia fa muro su questo per dire, se proviamo a riammettere, noi dobbiamo dimostrare che un migrante viene dalla Slovenia, la polizia italiana ne ha portato uno al confine, faccio un esempio, ma così i telespettatori capiscono, con un pacchetto di sigarette croato e la Slovenia ha detto, non è detto che sia passato per la Slovenia per arrivare dalla Croazia all'Italia, effettivamente si poteva essere paracaduttato. Ora, io non voglio prendere in giro i telespettatori, noi non molliamo, faticosamente avevamo messo le riammissioni come governo Meloni, andavano per questo motivo, di una certa resistenza della Slovenia, andavano a rilento, stavano migliorando, ora questa ordinanza del Tribunale di Roma è un colpo durissimo, è un colpo durissimo che non dimostra nulla sulla politica dell'uno o nell'altro, è un colpo durissimo perché è arrivato un giudice del Tribunale di Roma e ha detto, le riammissioni non si fanno, per la persona a cui l'avete fatta dovete dargli, non solo dovete riprenderlo in Italia, ma dovete dargli anche 18.200 Euro. E ragazzi, qui ovviamente il governo non molla, l'ordinanza del Tribunale è impugnabile, ad ora, a questa sera, mentre parliamo, non c'è stato nessun dispaccio da parte di Roma di fermare le riammissioni. Ah, cioè non ha avuto effetto di bloccarle, ad ora no, conto che il governo la impugnerà, dopodiché dobbiamo parlarci con franchezza, un attimo solo, dobbiamo parlarci con franchezza, in questo momento non si può bloccare i confine e un giudice della magistratura romana ha detto che non si possono riammettere in Slovenia, quindi se si segue alla lettera questa sentenza, noi siamo di fratelli d'Italia e non smetteremo mai di combattere, chiaramente, però se si applicasse alla lettera questa sentenza la questione sarebbe finita. Entrano quanti vogliono, fanno le loro richieste, le riammissioni non esistono, questo dicevo. Quindi 20 miglia, per dire, perché poi anche la Francia li manda di indietro all'Italia. Qui che cosa dice questo giudice, tra l'altro mi sono scaricato la sentenza. Aspetti, ce lo legge subito dopo, mi fate sentire Pierpaolo Roberti come ha replicato, vediamo. La posizione è assolutamente critica nei confronti di questa sentenza, ho già preveduto a contattare il Ministero dell'Interno che ha assicurato che procederà nelle varie sedi di giudizio per difendere la propria posizione. Questo è il primo commento dell'assessore regionale alle politiche dell'immigrazione, Pierpaolo Roberti, alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il nostro Ministero dell'Interno per aver applicato la procedura di riammissione di un migrante pakistano in Slovenia. Al di là del ricorso nei prossimi gradi di giudizio, Roberti sottolinea l'aspetto della condanna che si basa soprattutto sulla catena di riammissioni, partita sì dall'Italia ma proseguita da altri paesi. Penso che sia una decisione assolutamente discutibile che non condivido assolutamente e non condividiamo assolutamente. Prima di tutto perché stiamo parlando di accordi internazionali vigenti ormai da più di vent'anni e che quindi sono accordi tra stati che vanno rispettati. Accordi che peraltro sono assolutamente identici rispetto a quelli che l'Italia ha sottoscritto con la Francia in base ai quali la Francia fa le riammissioni verso il nostro territorio. In fin dei conti leggendo il dispositivo della sentenza non si condanna l'Italia in quanto fa i respingimenti verso la Slovenia. Si condanna in questo caso il fatto che la Slovenia rispetto alle persone che vengono riammesse li riammette a sua volta in Croazia e la Croazia li riammette in Bosnia. In fin dei conti alla fine se ci pensiamo bene veniamo condannati per delle cose che altri fanno, altri paesi esteri fanno e questo trovo assolutamente inaccettabile. Ricordo, Slovenia e Croazia fanno parte dell'Unione Europea, fanno parte di Schengen e quindi devono rispettare e sottostare alle stesse regole di carattere europeo, rispettano i diritti civili esattamente come li rispetta l'Italia e come rispettano gli altri paesi europei, diversamente non dovrebbero far parte dell'Unione Europea. Allora cosa dice il passaggio della sentenza? Era proprio questo, c'è uno dei motivi, la sentenza dice che la Slovenia è carente per cui non si può rendere in effettivo il diritto d'asilo in Slovenia, dice che i migranti sarebbero soggetti a trattamenti inumani, e questo lo dice un giudice italiano, ed avere torture da parte della polizia croata. Scritto nella sentenza. Nella sentenza, torture della polizia croata. Quindi non sono paesi nei quali si fuori. Non adeguate e degradanti in Bosnia, cioè Slovenia e Croazia, dice il giudice di Roma, sono paesi, in Slovenia non applicano il diritto d'asilo, in Croazia la polizia li tortura e in Bosnia non è adeguato, quindi se li deve tenere l'Italia. E la cosa bella, prima l'assessore Roberti citava l'accordo con la Francia, per cui la Francia li rimanda indietro a Ventimiglia, ma c'è un altro uguale, che è quello con l'Austria, più vicino a noi, al Brennero. Poi, ripeto, già una volta un'ordinanza, perché un'ordinanza, non una sentenza, un'ordinanza del Tribunale di Roma è stata ribaltata. Io ovviamente ho sentito il sottosegretario Prisco, e anche il sottosegretario Prisco dice che il governo va avanti, le abbiamo rimesse noi, del governo di Giorgia Meloni, le riammissioni, le difenderemo fino all'ultimo grado. Ma se questa sarà, e i telespettatori devono saperlo, se questa sarà la decisione finale della magistratura, non si riammettono, non si bloccano, chi arriva arriva. Cioè, Tomasello non è mica una cosa da poco, no? Anche perché siamo reduci dal Consiglio europeo, nel quale Giorgia Meloni ottiene il risultato, non lo ottiene, no, ma è quello di parlare dei confini primari. perché gli spostamenti interni è stato sempre il gran tema che poi non si è voluto affrontare, tant'è che lo stesso, o applicare, Polonia e Ungheria si sono opposte, no, su questo fronte qui, no? Parliamo, discutiamo pure delle frontiere primarie come non si è mai fatto, no? Però, prego. No, mi dispiace sul fatto del provvedimento, io guardi, non ero a conoscenza, vedo che il consigliere regionale in studio aveva anche in mano la sentenza e del fatto, io proprio ne sono venuto a conoscenza, quindi anche collocare temporalmente il fatto che è stato contestato dalla magistratura non ero a conoscenza. In ogni caso era il governo Draghi, era un governo dove facevano parte anche i partiti politici che sostengono l'attuale maggioranza e quindi non vedo che la responsabilità sia tutta sempre del partito democratico. Io ho constato questo, sì è vero che la Meloni sta andando in Europa, sì è vero però che la Meloni giustifica sempre la Polonia e l'Ungheria relativamente sulle loro politiche migratorie, non prendendone mai le distanze. Io posso constatare questo sulle politiche migratorie di questo governo, che non ha fatto nulla di quello che aveva promesso, doveva chiudere i porti, quindi una cosa che non poteva essere fatta, dovevano diminuire i flussi e invece non sono diminuiti, anzi siamo agli stessi livelli del 2016 e questa è la constatazione che sono in grado oggi di poter fare. Sì, guardate a me va benissimo chiudere il porto, ma siamo in un paese in cui il più alto grado giurisdizionale di questo paese, la Corte di Cassazione ha sancito che Carola Racchette poteva speronare una barca della Guardia di Finanza, per cui anche se la barca della Guardia di Finanza si è messa di mezzo, la Cassazione dice che la racchette poteva speronarla. Noi siamo a livello che se l'applicassimo sui confini terrestri, paragonando questa stessa sentenza della Cassazione a un confine terrestre, significa che se mettiamo due camioncini dei carabinieri o della Polizia di Frontiera, per lo stesso principio un bus di migranti li può speronare. Ripeto, oggi mi capita raramente, mi capita raramente, io sono veramente, provo un senso di frustrazione, ma sentendo i colleghi a Roma è lo stesso senso di vedere un tribunale che dice che l'Italia non può fare quello che la Francia fa l'Italia e l'Austra fa l'Italia e l'Italia non lo può fare verso l'Est. Ma non solo, nell'esatto istante in cui dice, non solo il Pakistan adesso rientra in Italia, non solo dice paesi dell'Unione Europea che non rispettano i diritti umani e che torturano, questo ci dice pure questo giudice del Tribunale di Roma, ma dice anche e gli si dà 18.000 euro, 18.200 euro, questo significa che un domani, adesso vediamo un po' il Ministero dell'Interno sta tenendo duro, ma domani quando ne respingiamo 10 e arriva il giudice del Tribunale di Roma e dice adesso gli diamo 200 euro, prima o poi potrebbe persino arrivare alla Corte dei Conti e dire alla Polizia va bene, ma adesso costa 200.000 euro, chi paga? Allora, è molto dura fare politica così, è molto dura fare politica così. Si bloccheranno cosa, Tomasello? Si bloccheranno altre scelte, se quella è stata sbagliata, la prego, la prego, la prego, siete voi che avete vinto le emissioni, siete voi che governate da 9 anni su 10, allora la prego, noi abbiamo detto le riammissioni, guardi, non se la prenda, non è una cosa personale, è una domanda che io faccio a ogni esponente del PD che incontro in questo studio, allora le riammissioni ce le blocco un giudice, allora non le si fa, io vorrei sapere dal PD qual è la sua ricetta, lo chiedo a ogni esponente del PD con cui mi trovo qui dentro e non ho mai avuto risposta, la prego, qual è la sua ricetta per la ruota baicanica? La ricetta ce l'avevamo e in parte anche Pordenone ha accolto il prefetto e anche il sindaco Ciliane era quella dell'accoglienza diffusa, ok? No, no, come non farli arrivare, scusi? Per non farli arrivare certamente, a mio parere, è quella di rivedere, presumo, la legge Bossifini, quella riguardante i flussi. Ma no, ma non c'entra niente, mi scusi, qua parliamo del diritto d'asilo, cosa c'entra la legge Bossifini? Qua parliamo delle persone che arrivano, passano ai confini e dicono facciamola rivedere la Bossifini, ma questo sicuro, ma non è che blocca la ruota baicanica. Allora, fermi, voglio, scusi Tomasello, e chiedo scusa anche al pubblico, passare totalmente un altro ragionamento, un discorso, ma voglio sentire almeno in una battuta a testa, perché qui abbiamo affrontato più volte il tema del fine vita, anche dopo quello che ha detto la richiesta di una signora triestina e ho fatto vedere più volte in questo studio la differenza per esempio col Veneto che nelle prossime settimane probabilmente accompagnerà alla morte una seconda persona, con scelte diverse e regioni che confinano. Cosa dice il Tribunale di Trieste oggi? Sulla segnalazione di questa vita il Consiglio regionale deve affrontare e via dicendo, su richiesta di questa signora bisogna fare tutta una serie di accertamenti, non lo deve fare l'azienda sanitaria, per probabilmente definire i confini di questa richiesta e mi perdonerete anche per il tipo di espressione utilizzata. Tomasello, cosa si dovrebbe fare dal suo punto di vista? Poi Giacomelli, però vi chiedo purtroppo di essere veloce. Non ho sentito. Il fine vita? Per il fine vita mi sembra che si stia discutendo in Consiglio regionale una mozione, una mozione che è stata poi anche, se non sbaglio, se non ricordo male, approvata e passata simile anche nel Consiglio regionale del Veneto, quindi con il voto favorevole anche di Zai e quella di dare, dal momento che manca una legge del Parlamento e dal momento che la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 ha dato degli spazi per poter concedere la possibilità a chi vuole interrompere la libertà del suicidio medicalmente assistito. Quindi è giusto che la regione intervenga in questo campo per dare certezza su un percorso da seguire nel caso in cui un soggetto scelga il percorso del suicidio medicalmente assistito. Cosa dice Giacomelli? Allora l'ordinanza del Tribunale di Trieste dice che la SUGI deve verificare la sossistenza delle tre condizioni che consentono di non imputare l'omicidio del consenziente e quindi chiede di verificare che sono le condizioni rispetto a patologie irreversibili, sofferenza insopportabile fisica o psicologica, vivere attaccati a una macchina ma la capacità di intendere e di volere per scegliere. Il Tribunale di Trieste dice alla SUGI verificami queste condizioni. In ricorso invece era chiesto anche che la SUGI dovesse anche indicare e rendere le modalità per porre termine alla vita e anche indicare il farmaco con cui... Per essere chiaro il Veneto mette a disposizione appunto il farmaco e il macchinario non esegue. Allora per quello che ne riguarda in un paese serio non ci può essere differenze normative tra una regione e l'altra per quello che riguarda il fine vita. Non posso pensare a una persona che si sveglia la mattina a Trento, in Trentino non si può fare, vado in Veneto a richiederlo, no però aspettate in Veneto il comitato edico scientifico è molto duro su quella malattia meno su quell'altra, sarebbe meglio andare in un'altra regione. In un paese serio questo non può avvenire, non può essere un livello regionale. Il Parlamento deve decidere. Grazie a Fausto Tomasello per essere stato con noi, grazie e grazie a Claudio Giacomelli. Pochi istanti di pubblicità e torniamo sul caso Resinovic con novità importanti che sentirete tra poco. Dunque, come anticipato, questa sera torniamo a fare il punto su quello che sappiamo fin qui del caso di Liliana Resinovic, della nuova porzione di indagini che caratterizzerà questi mesi di qui in avanti. Sapete anche di un piccolo caso che abbiamo raccontato nel telegiornale ieri, dopo aver sviscerato anche un tema forse poco noto ai più grazie ai colleghi in questo studio, cioè quello della cripta proprio vicino al luogo di ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic. Insomma, ne abbiamo parlato qui per un paio di settimane all'arrivo delle nostre telecamere e quella cripta era chiusa con un nuovo lucchetto dei pannelli in legno. Tra poco ve lo mostreremo, l'abbiamo fatto vedere ieri sera nel telegiornale. Però, insomma, è un piccolo dettaglio ma curioso, molto curioso secondo me nel racconto che stiamo facendo. Allora, saluto Gianluca Paradin, giornalista di Tele4. Buonasera, ben trovato Gianluca. Buonasera. Con noi ancora Gianpaolo Sarti del Piccolo. Buonasera a tutti, rieccoci. E Nicolo Giraldi, responsabile di Trieste Prima. Buonasera, buonasera a tutti. Ma soprattutto, lo vedete nel titolo, è con noi il Presidente dell'Associazione Penelope, Avvocato di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, Nicodemo Gentile. Avvocato, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera ai vostri ospiti. Grazie per essere con noi. Dunque, ci farebbe piacere questa sera capire appunto dove siamo arrivati, ma soprattutto so che lei ha anche in animo un po' di dire quali sono stati forse i passaggi di questi mesi, il punto a cui si è arrivati, più di qualcosa credo anche non noto ai più. Che messaggio vuole mandare stasera, Avvocato? Direttore, io uso e spendo nella sua importante trasmissione le stesse parole di esordio di fronte al Dottor Dainotti in quella opposizione, udienza all'archiviazione del 5 giugno. Rimettiamo al centro, Liliana, questa donna scaricata come una giocattolo roto, sempre detto, occultata in due sacchi neri come scarto industriale di macelleria, perché spesso succede che poi nella narrazione dell'agliante la vittima va a finire nello sfondo più buio, i protagonisti diventano altri soggetti che hanno ruoli diversi. La vittima deve essere al centro, questa donna docile che si è ritrovata imbustata su un freddo prato di Trieste e che sta facendo discutere tutta Italia. Liliana al centro e dobbiamo ricostruire in modo dettagliato, analitico e globale questa vicenda, con umiltà, con coraggio, riavvolgendo il nastro e partendo di nuovo da zero. Questa era stata la nostra richiesta, perché quella del suicidio, che è stata l'ipotesi dominante, elettiva, tanto da sembrare una indagine suicidio-centrica, mi sono permesso di definirla, che è partita dal suicidio e tutto quello che è stato visto, è stato visto con gli occhi di questa ipotesi, deve essere azzerato. Noi siamo convinti che in campo non ci sono più squadre, non c'è la squadra del suicidio o quella dell'omicidio, c'è la squadra della verità, una verità che sfugge, una verità che è immobile, una verità che ancora non si raggiunge e quindi al centro Liliana e dobbiamo ricominciare per quanto è possibile fare. Avvocato, senta, mi dica già una cosa di sua impressione per quanto si possa tollerare un'espressione di questo tipo. Parliamo di omicidio. Partiamo da qui, no? Guardi, allora, io ho la mia ipotesi, ma non serve a nulla la mia. Il giudice di fronte ad un cadavere e di fronte a quella che deve essere definita tecnicamente una morte sospetta, una morte equivoca, ha voluto che si scrivesse l'articolo del codice 575 che è quello del suicidio. È giusto procedere in questa direzione. Vedremo sicuramente quella del suicidio. È una ipotesi che doveva essere sicuramente valutata, che doveva essere sicuramente percorsa, ma credo che ormai in tanti, in tantissimi, in scienza e coscienza, dovrebbero avere l'umiltà di veramente confrontarsi con i plurimi elementi, plurimi e molteplici elementi di natura anche dichiarativa, comportamenti sicuramente insoliti e stospetti, che devono essere sicuramente vagliati in modo unitario e globale. È stata spezzettata questa indagine. Non c'è stato un occhio insieme. E lo dico con grande rispetto. Io faccio i corsi di formazione con gli amici della Polizia, con gli investigatori. Quindi ho un massimo rispetto. Mi dica una cosa però. È stato chiarissimo. È possibile che qualora... La sua idea può significare poco, però ci interessa molto invece. Lei ha un dialogo costante col fratello Sergio. Probabilmente avete elementi che a noi mancano. Molti sono stati riportati nero su bianco nella vostra richiesta di non archiviare. Però il tema è, è possibile che qualora si tratti di omicidio, questa brutta storia possa non riguardare realtà. Nessuna delle persone a noi note fin qui? Guardi, io invece la penso diversamente. Nel senso che ho sempre detto, sin dall'inizio, che questo è un delitto di prossimità. Sicuramente quello che è successo è successo nel mondo delle relazioni di Liliana. Io vado oltre al mondo delle relazioni di natura sentimentale. Anche parlo di stretto giro di amicidie. Io sono sempre più convinto che Liliana è stata intercettata in quella mattina e poi da lì qualcosa è successo. Quelle lesività sul viso di Liliana che sono state sottovalutate, che non sono state individuate, che non sono state assolutamente descritte. cosa che fa invece il professor Derrico, che voi qui a Trieste conoscete molto bene, il tema professor Pineschi, sono sintomo non di una causa di morte o con causa, ma sicuramente di un qualcosa che ci dice che quella mattina o in altre mattine, vedremo, Liliana comunque non era la sola. Liliana è stata oggetto sicuramente di una colluttazione. Liliana è stata intercettata, c'è stata sicuramente qualcosa di aggressivo e ricordatevi che sopraffare Liliana, una donna che pesava 42 kg, lo dice il marito, nel suo atto di denuncia, non era una cosa poi così difficile. Cosa è successo dopo? Un strattonamento che ha portato ad un malore qualcuno che invece è arrivato. Però, attenzione, questa valutazione innanzitutto crea un punto di crisi assoluto, e qui il nuovo impulso che ci dice che l'ipotesi del suicidio deve essere assolutamente abbandonata. Ok, fermo lì avvocato, perché secondo me i colleghi di quali dobbiamo avvalerci questa sera hanno molte domande per lei. Da chi cominciamo? Gianpaolo? Dai, prego. Avvocato, sono Gianpaolo Sarti del Piccolo, mi sente? Ma sento molto bene. Allora, innanzitutto, complimenti. Primo punto. Complimenti per la caparbietà in cui avete preso in mano in questo caso, quanto siete andati a fondo, e anche per le sue parole di immensa umanità e rispetto nei confronti di una vittima. Ora, vedremo cosa succederà. Qualora fosse stata uccisa, o se si trattasse di un suicidio, è comunque vittima. Liliana è comunque vittima. Perché una persona, ora non abbiamo, come dire, delle conoscenze di carattere psicologico, tantomeno conoscendo la persona, però se una persona si suicida, ci sarà un motivo. E questo motivo, probabilmente, andrebbe ricercato in quel cerchio relazionale in cui lei probabilmente era prigioniera. Detto questo, complimenti anche al GIP che ha accolto pienamente, direi, o quasi tutti i rilievi che avete fatto con il suo consulente, se non sbaglio, dottor Fineschi, ed è uno dei più importanti, più importanti in Italia, esperti di casi difficili. È stato consulente per il caso Cucchi, è stato il medico legale che ha fatto, attenzione, ha fatto l'autopsia del povero Giulio Leggeni. Quindi, chi ci ascolta da casa deve capire in che mani siamo in questo momento. C'è un caso di questa portata e sotto l'attenzione di uno dei consulenti, dei medici legali più importanti in Italia e non soltanto, con esperienza anche all'estero. L'abbiamo sentito il 18 giugno sulle pagine del piccolo, dottor Fineschi, una bella intervista alla collega Laura Tonero, che ha detto una cosa apparentemente banale, però, come dire, basica. Quale? Se si rifà, e si dovrà rifare, perché lo chiedete voi, l'autopsia, ok? Cioè, si rimette mani lì, e anche risumando il cadavere, e soprattutto rivedendo un corpo che sia stato seppellito, quindi con la risumazione, lì potrebbero esserci altri elementi, soprattutto quegli aspetti sui muscoli, andare a rilevare il discorso degli enzimi, per capire con le tecniche, ora in corso, se è stata congelata o raffreddata, le tecniche che si usano a livello alimentare, per le truffe alimentari, per capire se la carne che ci viene venduta e servita è stata raffreddata o congelata prima del consumo, sono cose molto importanti che vengono fatte, ma attenzione, lui dice una cosa molto semplice, se attraverso questa analisi si scopre che Liliana è morta il giorno della scomparso, dunque quel 14 dicembre, significa che è stata uccisa, perché con le sue gambe lei, nell'ex UPP, nel parco lì in quel boschetto, non poteva andarci da morta, ovviamente. Oppure il malore, che anche l'avvocato Gentile adesso ha citato, cioè un malore, sì certo, ci sono i segni di violenza, però può essere accaduto, un litigio come avevamo detto. Purtroppo, io volevo solo raggiungere una cosa, ma mi viene in mente, proprio di una possibilità collutazione, ma lei si rende conto che quei segni, segni che aveva il volto, ed erano anche in qualche modo descritti nei documenti che avevamo del dottor Costantinides e del dottor Cavalli, vengono come a dire lasciati lì, senza spiegazione, ma perché secondo lei si può fare una cosa del genere? Cioè trovi dei segni in faccia e non vai a fondo. Allora, prego, avvocato Gentile, con i conosci altri, c'è Luca Paladina, anche, prego. Allora, per quanto riguarda la medicina legale, nonostante il grande valore dei consulenti della procura, che sicuramente non sta a me dare dei voti, non sono abituato, però sicuramente quel prodotto tecnico è un prodotto assolutamente che non ha aiutato l'andagine, tant'è che la stessa procura, dopo aver atteso per molto tempo il deposito della consulenza definitiva, poi nel momento in cui decide di archiviare, fa un salto dicendo bene, forse i nostri medici legali si sono lasciati ingannare e a me non interessa quando è morta, perché io non ho individuato dei reati, io faccio questo, il resto lo lasciamo alla storia della famiglia di Livi, ecco, questo evidentemente è un ragionamento che è stato assolutamente bocciato dal GIF, perché in realtà una procura ha, diciamo, come punto di base quello di capire quando è morta, soprattutto, guardate, ripeto, questa analisi deve essere un'analisi a 360 gradi, siamo di fronte ad un'indagine che sta cercando degli indizi e quindi tutti questi tastelli devono essere messi insieme. Vi faccio alcuni esempi. Noi abbiamo consegnato una fotografia reale al GIF di alcuni comportamenti che noi abbiamo chiamato insoliti e sospetti che riguardano alcuni dei soggetti che vivevano intorno al mondo di Livi. Ad esempio, e vi dico una prima cosa che forse non è stata evidenziata in questo periodo particolare, siamo stati noi come avvocati della difesa di Tercio e Veronica Resinovic a individuare quei due siti che Claudio Sterpin non aveva consegnato all'indagine. Noi siamo... Cioè i magazzini, le soffitte? Le soffitte, le cantine, le cantine. l'indagine difensiva nostra dell'avvocato Bitti dopo che ci siamo confrontati perché nel fascicolo c'erano delle chiavi che non erano state segnalate, abbiamo risentito Claudio il quale Claudio all'indagine difensiva di questi difensori ha ammesso l'esistenza di altri tipi che non erano stati mai in nessun modo evidenziati. Questo cosa ci può dire o aiutare a capire? Ci può innanzitutto aiutare a capire che anche se l'indagine, questo lo dobbiamo dire, ha avuto per un periodo molto dopo la denuncia di scomparsa un rete capillare di intercettazioni telefoniche, questo significa che non sempre le intercettazioni telefoniche riescono a far scoprire agli inquirenti le cose perché ad esempio che Claudio e l'Inni si incontrassero in altri due siti diversi da quelli che lo stesso Claudio aveva ovviamente già evidenziato nelle sue dichiarazioni da questo patrimonio di capitazione non era venuto fuori, questo significa che è evidente che non sempre le intercettazioni servono. Cosa dicono? dicono che in un'indagine dove i medici legali della procura addirittura dicono è possibile che lei pensando ad una morte al 3 o al 2 di gennaio del 2022 che lei addirittura indossasse gli stessi vestiti ma non era un elemento perché lei aveva qualche locale dove si poteva addirittura lavare i vestiti io mi fermo qua e non vado avanti in questa ricostruzione beh è evidente che sapere dove l'Eliana poste in quei 20 giorni è un dovere di chi indaga sì non può restare sospeso come dice certo certo in una visione che potrebbe essere una visione anche di istigazione al suicidio perché attenzione noi l'abbiamo sempre detto con forza non condividiamo quello che la procura dice nella sua richiesta di attenzione che il perché per come l'Eliana si sia suicidata non è importante no in una indagine dove si pensa anche al suicidio cercare di capire poi in modo retrospettivo le ragioni per le quali una persona compie un gesto estremo importante soprattutto una persona anche l'induzione al suicida come diceva l'impacto quello che si vuole dire ecco la visione globale noi abbiamo una consulenza informatica che con forza che con evidenza con una diciamo visione assolutamente piana della vita di l'Eliana questa donna voleva divorciare dal marito e cercava appartamenti allora io vi dico nonostante queste evidenze si è continuato a dire che si tratta di suicidio e se noi nella consulenza informatica avessimo trovato ricerche come depressione sacchi neri scofarmaci e allora era finita per sempre ecco perché bisogna con serenità umiltà e coraggio riavvolgere un altro e ritornare a me interessa la mente di questa donna certo e perché allora una indagine che è per morte equivica e sospetta l'autobusia psicologica è un dovere fondamentale fermo lì allora grazie grazie avvocato aspetti solo qualche istante perché voglio far intervenire tutti intanto mi aveva colpito che chiaramente diciamo nel dare il primo nel sottolineare un aspetto forse poco esaltato ecco degli effetti del vostro intervento via dicendo noi abbiamo mostrato le foto che ha pubblicato Unicologica del Zio Terrestre prima appunto dei famosi magazzini e cantine via dicendo lei abbia sottolineato qualcosa che riguarda Claudio Sterpì a me ha colpito uno si immaginava forse parlasse più di Sebastiano lo ha fatto poi in realtà anche nella seconda parte quindi però insomma non ha detto mica una cosa da poco oltre al fatto che bisogna capire se può esserci appunto un luogo nel quale lei può aver trascorso quei giorni oppure allo stesso tempo anche purtroppo un comportamento che può essere etichettato come istigazione al suicidio attenzione sono tutti elementi interessanti fermandosi come ha detto lei molto bene con le ricostruzioni fino a qui perché appunto ci sono investigatori Niccolo Giraldi prego i temi sono tra virgolette sempre un po' quelli c'è il lato umano della vicenda che è sottolineato in maniera puntuale molto precisa dall'associazione Penelope ma insomma da tutte le persone che chiaramente hanno voluto bene a Liliana e che ovviamente adesso insomma chiedono verità e giustizia sul caso poi c'è tutto il lato tecnico c'è tutto il tema delle analisi dei controlli e delle indagini di per sé su questo punto poi io stuzzicherei anche l'avvocato da casa insomma dallo studio perché ci sono alcune segnalazioni avvocato mesi fa sul tavolo del procuratore arriva la segnalazione su queste due molecole la mesalazzina e l'idrossichinolina che sono due molecole importanti anche potenzialmente per datare un po' il periodo del decesso e sono delle spie tra virgolette un po' dei fari che si accendono poi tutto questo che fine fa tra virgolette cioè cosa abbiamo approfondito da quel punto di vista sappiamo che la mesalazzina potrebbe essere come dire presente qualche ora prima del decesso mentre l'idrossichinolina sarebbe come dire ascrivibile al giorno precedente o comunque a un tempo precedente rispetto al decesso questo è un altro tema potenzialmente da approfondire perché noi abbiamo le narrazioni il racconto il bucato della mattina le sostanze i possibili guanti usati per lavare a casa via dicendo quindi a volte c'è traccia a volte non c'è traccia di sostanze non capiamo bene dove andiamo a parlare chiaramente di cui parliamo molto all'inizio che poi sono spariti e poi sono spariti ma perché questo poi si rifà all'interno della narrazione sulla vicenda e sul tema cioè a quello che come dire abbiamo affrontato anche nelle ultime puntate di Ring cioè al tema delle omissioni a volte non c'è solo il tema delle omissioni all'interno della cerchia di relazioni delle persone vicine a Liliana ma c'è anche un po' tra virgolette il tema delle omissioni o quantomeno della sparizione a volte di determinati elementi magari di indagine che non spariscono dall'indagine ma spariscono tra virgolette dal racconto e dal dibattito che l'opinione pubblica poi fa per questo e vengo da lei avvocato vorrei cercare di capire un po' perché voi durante tutte le indagini portate avanti dalla squadra mobile della questione di Trieste e dalla dottoressa Kergia avete come dire avete proceduto tra virgolette in maniera parallela su una via parallela tra virgolette cercando di andare ad approfondire determinati temi che poi fortunatamente hanno portato all'opposizione cioè la richiesta dell'archiviazione ecco oggi cosa vi aspettate al di là di quello che sta facendo chiaramente la procura e la squadra mobile pensate di andare avanti per conto vostro anche su determinate indagini perché sarebbe interessante riuscire a capire anche un po' questo perché se effettivamente siamo arrivati a questo punto è anche soprattutto per merito vostro Allora avvocato Gentile e poi Gianluca Paladin prego Sì grazie grazie di questa domanda perché introduci un tema molto importante io ho parlato prima di Sterfine noi abbiamo consegnato una fotografia reale noi non abbiamo chiesto né di indagare qualcuno né soprattutto nessuna condanna però ci sono dei comportamenti che devono essere valutati tra i comportamenti che noi abbiamo chiesto al GIP e che continueremo a chiedere alla procura perché poi sono correlati con tutta una serie di aspettamenti chiesti dal GIP tra l'altro voglio dire che il GIP non ha fatto altro che prendere le nostre richieste e riportarle sono tutti dei punti che noi avevamo ben evidenziato ci sono ad esempio dei comportamenti anche in questo caso da verificare ma anche dell'interesse delle persone che io sto per dire in quanto questo serve per chiarire alcune cose e faccio un esempio banale ma questo è un elemento a nostro avviso estremamente importante vi dico subito allora alle 8.24 il telefono di Sebastiano Vicentino viene agganciato nella zona di San Pelaggio via dei Marchi tenete presente che siamo vicino casa e alle 8.22 lì lì aveva fatto 8.24 quindi dopo pochi minuti Sebastiano è in quella diciamo area noi abbiamo chiesto di capire se è possibile una localizzazione molto più precisa non più dell'area ma della via della zona del porto allora tenete presente che alle 9.02 Sebastiano Vicentino si trova in via Carducci via Carducci è voi che siete di Trieste lo sapete meglio di me a pochissimi passi a pochissimi metri da via Battisti alla Wind se lì è vero come è vero che alle 8.43 in via di Guattiella tenete presente voi se avete il provvedimento del giudice potete assolutamente vedere che anche quei 5 minuti che la squadra mobile dice di allineare le telecamere e l'orario delle telecamere di via Chiesa quindi le 8.43 di via di Guardiella diventano le 8.48 per essere poi in piazzale Giobberto e le 8.50 noi non abbiamo dei criteri oggettivi che ci dicono perché dobbiamo far salire di 5 minuti le lancette delle telecamere e il GIP dice in realtà dovete fare questo tipo di situazione se la nostra villa alle 8.43 cioè avvocato avvocato lo ricordo per chi è a casa abbiamo letto tutti insieme il dispositivo del GIP cioè c'è un tema fondamentale che è quello di sincronizzare gli orologi ecco lo faccio molto semplice non è detto che quegli orari che ci hanno riferito le varie telecamere compreso quella a bordo dei mezzi della Trieste trasporti siano l'orario vero reale possono essere sballati la faccio molto semplice quello che sta spiegando adesso è che è fondamentale l'avvocato Gentile prego perché significa che Lilli a piedi ed era una camminatrice per arrivare in via in via Gettere Battisti alla guinde dove aveva detto a Sterfine che voleva andare più o meno lui ritorno alle 9 9.5 Lilli era là significa che da un punto di vista astratto Sebastiano in via Carducci alle 9.02 e Lilli è lì intorno alle 9 dopodiché Sebastiano Bisintine questo è un tema importante dice di andare mi sembra alla pescheria della galleria Rostoni dove dicono però che non l'hanno visto e alle 9.12 il suo telefonino viene localizzato in via Donadoni dove c'è il suo operatore allora dalle 9.012 alle 12.10 il telefonino di Sebastiano Bisintine è spento il telefono di Sebastiano Bisintine non dà segni di vita sia per quanto riguarda Aspetta ha detto dalle 9.02 alle 9.12 alle 12.10 dalle 9.12 alle 12.10 abbiamo due ore due ore di buco tre ore tre ore di buco tre ore il telefono è spento spento perché non c'è vita né per il traffico telefonico né per il traffico telemanico non significa nulla la polizia in modo molto attento e accurato perché lui dice che ha affidato i coltelli ha fatto richiesta di avere i consumi energetici del laboratorio di via Donadoni bene noi abbiamo visto che i consumi sono molto anomali nel senso che ci sono dei consumi che non sono secondo noi compatibili con l'utilizzo di quella preta così la chiama lui che serve per arrotare e che è collegata poi a un bidone a spira tutto perché sono consumi estremamente bassi di ritori noi abbiamo visto questa verifica cioè il nostro tecnico russo che è un tecnico abbastanza bravo per il più utilizzato dalle procure d'Italia si dice che il telefono di Sebastiano tranne il giorno 12 di dicembre dalle 8 alle 10 del mattino non era stato nel periodo che va da dicembre 2021 a dicembre fine gennaio non è stato mai spento nel laboratorio e soprattutto Sebastiano tre ore nel laboratorio non è mai stato questo risulta da i tabulati delle bolle questo non significa nulla attenzione aspetti avvocato aspetti aspetti avvocato che c'è bisogno avvocato aspetti 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 perché è importante allora tu non hai capito bene non hai seguito il tema è questo il discorso del consumo invece è interessantissimo cioè cosa ci sta dicendo l'avvocato Gentile noi sappiamo quella mattina Sebastiano dice di essere stato nel suo laboratorio a lavorare no 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 il giro in bicicletta lui scusate facciamo chiedere lui dice quella mattina scusate non c'è proprio gli occhi dà quella mattina lui va a farsi il giro in bicicletta con la telecamera dopo dopo cosa avvocato poi dalle 12 e 10 in poi il suo telefonino riprende attività e quello è il giro che fa lui con quei micro video sulla gopro sulla gopro dalle 12 e 10 in poi però lui dalle 9 e 12 alle alle 12 e 10 il suo telefonino risulta spento privo di traffico telefonico e telematico e ripeto ancora una volta è successo soltanto in quella mattina perché poi nel pomeriggio quando va nell'operatorio il telefonino produce traffico telematico ed è successo un'altra volta soltanto il 12 di dicembre tutte le altre volte quando era nel laboratorio il telefonino prendeva sempre e tre ore nel laboratorio da quello che a noi ci risulta allora avvocato ci ha detto una cosa molto interessante aspetta aspetta anche perché ho la pubblicità ma è veramente voglio ricominciare da questo punto che è fondamentale scusami Gianluca cioè dalle 9 e 12 ripeto ancora fino alle 12 e 10 il telefonino di Sebastiano il giorno della scomparsa di Liliana 14 dicembre tre ore è spento di solito quando andava nel suo laboratorio appunto dove dice lui di essere stato non lo spegneva è capitato solo un'altra volta ma mai insomma di fatto dice di aver passato quel tempo nel laboratorio e poi è andato a fare il giro in bicicletta con la GoPro in realtà dicono i consulenti l'avvocato Nicodemo Gentile lì noi di grandi movimenti di energia cioè analizzati i consumi del suo laboratorio non ne vediamo non ha usato la fresa non ha usato il bidone aspira tutto che avrebbero fatto un picco di consumi allora fermi che ho la pubblicità Gianluca subito dopo la pubblicità aspetta avvocato avvocato ricomincio da lei dopo la pubblicità aspetta aspetti pochi istanti e ripartiamo da qui allora torniamo in diretta anche perché poco fa l'avvocato Gentile c'è stata una cosa molto interessante secondo me della ricostruzione che può voler dire tutto come niente lo ha specificato lo stesso avvocato fermi lì Gianluca Paradini vai sì credo che l'avvocato stesse rispondendo adesso lo sentiamo allora è interessante quello che ha appena detto quindi gli spostamenti che vengono fatti effettuati dai protagonisti di questa vicenda poi abbiamo detto l'avvocato Nicodemo Gentile questo è una situazione che ruota attorno alle persone allora andiamo per ipotesi Liliana non si è suicidata ipotesi Liliana non si è suicidata quindi qualcuno ha concorso nella sua dipartita un malore uno spavento a metterle le mani addosso instigazione al suicidio sono tanti temi che stanno venendo fuori in questi minuti ma io voglio sapere voglio sapere tante cose magari l'avvocato potrà aiutare ma voglio sapere a che punto siamo con le indagini voglio sapere sono stati analizzati i vestiti dei protagonisti di questa vicenda visto che parliamo di un bosco dove è stata abbandonata forse perché magari non si è portata lei una donna dove è difficilissimo passare in quegli anfratti c'è il tema della cripta adesso lo vedremo e parliamo di un ambiente veramente impervio se le indagini sono partite male siamo sul campo delle ipotesi che faccio comunque complimenti alla procura e alla squadra mobile ma se il GIP ha chiesto di rifare tutto perché il GIP ha chiesto di rifare tutto praticamente cioè ripartite da capo allora io voglio capire i motivi avvocato lei sta continuando immagino a investigare in tal senso a collaborare con la procura a che punto siamo fra sei mesi cosa deve venire fuori allora scusami Gianluca avvocato sicuramente devono essere rapidi e aggiungo a questi quesiti che le dice Gianluca Paladin quello che discutevamo con Gianpaolo Sarti durante la pubblicità cioè potrebbe aver acceso la luce Sebastiano cioè magari non ha utilizzato degli strumenti all'interno del suo laboratorio ma magari era lì veramente faceva altro senza necessità di grande dispendio di energia elettrica prego avvocato allora voglio precisare che questo accertamento è stato fatto dalla polizia la nostra analisi poi è stata suggestiva e ci sono delle fasce di orario perché parliamo di tre ore dove i consumi sono sicuramente irrisori sono sicuramente irrisori questo è un dato noi abbiamo chiesto un accertamento anche nell'interesse di Sebastiano mi sentite proprio per evitare che ci sia una zona d'ombra e che il suo narrato il suo racconto possa essere lineare e possa essere quello di una persona che appunto nulla a che vedere con la vicenda della morte della moglie di questo noi vogliamo metterlo in evidenza addirittura negli atti della indagine c'era anche una richiesta da parte della squadra mobile di verificare anche i consumi di energia elettrica della casa di Visintin dell'appartamento di Via Verrocchi in quella mattina perché Sebastiano Visintin in una delle sue versioni dice che la mattina era tornato a casa in bicicletta e questo lo conferma anche una dichiarazione della cugina di Liliana della Silvia Radin e in una sua sommata informazione Sebastiano Visintin dice è vero il pomeriggio quando io sono tornato a casa ho trovato la luce accesa la luce dell'appartamento accesa la polizia aveva chiesto di poter fare questo confronto dei consumi per verificare perché Lilli comunque alle 8.40 ormai era fuori casa per vedere qual era stato il consumo di quella mattina poi noi non abbiamo il risultato vedete come vedete come l'indagine si deve nutrire di tutte queste cose messe insieme perché altrimenti l'indagine non sarà mai completa e ripeto anche e soprattutto nell'interesse di questi soggetti allora bisogna capire perché Claudio Steffin non ha detto alcune cose bisogna capire perché il telefono di Sebastiano era spesso perché c'erano questi consumi e poi noi ti adageremo su qualsiasi soluzione per quanto riguarda le indagini la domanda che faceva il vostro ospite il vostro collega allora noi abbiamo ricevuto ad oggi soltanto un avviso per lavorare e l'avviso per i telefonini per alcuni dispositivi informatici tenete presente e questo io lo devo dire ma lo devo dire proprio per far sì che si ricomincia con la voglia di lavorare insieme che questo difensore aveva chiesto il sequestro dei telefonini sia di Vicentini sia di Sterpini che di Pulvio Covalero che inizialmente erano stati negati io posso anche capire che in quel periodo in quel momento storico era importante perché c'erano attività di intercessazione in corso anche se si tratta di verifiche diverse perché è evidente che ormai non si comunica più attraverso il tabulato telefonico ma i telefonini contengono un mondo soprattutto gli android la messaggistica istantanea e la social app di ogni genere e devo dire che questi attempati signori sanno usare molto la tecnologia però noi questo patrimonio di informazioni non ce l'abbiamo non l'abbiamo avuto nonostante noi l'avessimo chiesto i telefoni non sono stati mai sottoposti sotto totosequestro per quanto riguarda invece la medicina legale poi mi fermo non è da escludere che la procura si è già procedendo magari ha dato incarico ad un proprio tecnico nuovo medico legale e procede con accertamenti non ripetibili sulle carte in questo caso non ci deve mandare nessun avviso poi vedremo che tipo di accertamento è stato fatto va bene allora aspetta avvocato Giopalo allora adesso abbiamo spostato un attimo l'attenzione su Visentim chiaramente su questi spostamenti ritorno un momento su Sterpim queste nuove rivelazioni che sono così spuntate un po' così all'improvviso in modo anche come in modo insolito cioè ci frequentavamo molto prima avevamo questi luoghi di frequentazione così la cantina il magazzino il furgone che era già emerso nei primi momenti dell'indagine però il magazzino e la soffitta sono elementi in qualche modo nuovi che spuntano tra aprile e maggio di quest'anno ecco domanda Sterpim è stato immagino sentito varie volte ok queste cose le ha dette solo a un certo punto il fatto che queste mezze verità compaiano così no così a spot a un certo punto visto che è stato la persona è stata interrogata fin da subito si potrebbe profilare un'indagine a carico di Sterpim per falsa testimonianza lei è un avvocato lei è un avvocato secondo lei potremmo avere questo scenario io io me lo auguro non solo nei confronti di Claudio Sterpim ma nei confronti di tutti i soggetti che dicono di volere bene a Liliana però poi quando sono stati sentiti si sono fatti portatori di tutta una serie di dichiarazioni insolite e sospette dichiarazioni mezze verità retromarce dichiarazioni venosimili che meritavano e meritano un approfondimento noi ad oggi non sappiamo dov'è la fede di Lilli ad oggi noi non sappiamo dov'è la fede di Lilli noi ad oggi non sappiamo quando e come Sebastiano Vicentino si è accorto che i telefoni di Lilli erano a casa ha dato 30 versioni diverse noi ad oggi non sappiamo tante altre cose che non sono elementi di colore sono cose che vanno approfondite perché c'è un interesse superiore che quello di capire che cosa è successo a Lilli Sebastiano Vicentino Claudio Steffin Fulvio Covalene tutti i soggetti che stanno facendo parte di questa diciamo narrazione in parte anche dell'agliante devono assumersi le loro responsabilità di fronte alle loro Avvocato non sarà sfuggito credo molti lei non ha mai citato il figlio di Sebastiano Vicentino il figlio di Sebastiano il figlio di Sebastiano Vicentino io non l'ho citato perché il figlio di Sebastiano Vicentino è stato sottoposto alla verifica dei cellulari quindi il tracciato telefonico ha dei contatti con il padre la notte del 30 di dicembre al lago di Doberdò noi avevamo chiesto alla procura di fare una verifica analitica rispetto a questo strano viaggio di Sebastiano verso il lago di Doberdò il 30 dicembre e ai contatti avuti e ad oggi noi non abbiamo evidenze di altro se non di contatti telefonici tra il padre e il figlio molto diciamo esigui il figlio non lo chiama quando Liliana ad esempio viene ritrovata il 5 di gennaio non ci sono contatti con il padre non lo chiama quando scompare però queste sono anomalie comportamentali che nulla dicono da quello che il CIP evidentemente ha voluto approfondire ha chiesto che anche il figlio fosse sottoposto al prenevo del DDA e che anche il figlio venisse attraverso un incrocio dei dati telefonici sottoposto a un nuovo esame dei suoi percorsi dei suoi tracciati telefonici e telematiche allora interessante però né il giorno della scomparsa di Liliana né quello del ritrovamento ho capito bene il figlio chiama papà Sebastiano almeno dal tabulato telefonico non ci sono va bene aspetta perché abbiamo tantissime curiosità delle cose velocissime esatto Gianluca velocissimo Nicolò dai tutti prego velocissime queste cose e tirerò fuori sempre quello che ha detto Pierpaolo Martucci il criminologo se nel campo dell'ipotesi se qualcuno ha avuto parte nella morte nello spostamento del corpo di Liliana non ha agito da solo deve essere stata più di una persona vorrei sentire anche il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile su questo che ringrazio per rispondere a questa domanda lei avvocato ha avuto il merito di riaprire un caso contribuendo forse insieme alla pressione mediatica con 137 pagine mentre il suo collega bevi l'acqua solo una decina di pagine non so se vuole anche commentare questo anche come ha lavorato magari in sinergia con l'avvocato bevi l'acqua so che avete altre domande quindi mi fermo qui avvocato appunto nelle 137 pagine che il collega Paladin citava adesso voi chiedete e menzionate cioè fate i nomi di più persone cioè noi ci concentriamo sempre su Fulvio Covalero Sebastiano Visentini Claudio Sterpini cioè una sorta di permettetemi il passaggio una sorta di triade però in realtà voi chiedete cioè fate i nomi di altre persone cioè chiedete che il figlio l'amico ristoratore la coppia di romance via dicendo cioè avete tutta una serie di nomi fate nomi e cognomi poi all'interno delle 137 pagine voi poi vi soffermate anche ad esempio sui alcuni precedenti insomma o ipotesi di reato o meno che insomma hanno contraddistinto avrebbero contraddistinto la vita di alcune persone nel passato ora senza andare per forza a fare i nomi quello che mi chiedo è quando il GIP dice continuiamo ad indagare nella cerchia di relazioni e anche il GIP fa il nome permettetemi di nuovo della triade però le altre persone tra virgolette spariscono cioè quando il GIP dice andiamo anche lì quelle persone verranno sentite finiranno all'interno come dire delle analisi dei controlli e delle eventuali insomma interrogatori e via dicendo oppure no allora facciamo così siccome anche Gianpaolo vuole fare una domanda Gentile risponda intanto avvocato a queste due vicende e questioni e poi andiamo a Gianpaolo Sarti il rapporto col collega Bevi l'acqua che è un ottimo legale di grande esperienza e di grande spessore tecnico non ci sono assolutamente nessun tipo di contrasto la quantità delle pagine non è importante è importante la qualità lui ha evidentemente ritenuto di approfondire alcuni percorsi e lo ha fatto con la sua maestria noi abbiamo fatto un percorso diverso tenete presente che noi abbiamo fatto anche una memoria oltre alle 137 pagine più tutto quello che è stato depositato dalla collega Obitti depositando 5 consulente anche alla procura di Trieste per questo è il primo aspetto per quanto riguarda l'aspetto delle persone allargate tutto nasce da una valutazione che noi abbiamo fatto circa un rilievo della procura dicendo comunque Lilli non aveva nessun nemico e allora noi abbiamo fatto un ragionamento partendo da un lato ci sono dei soldi contanti che per il diciamo nucleo familiare di Lilli per quanto sono le finanze anche di Sebastiano si parla di 20.000 euro lui lo ha detto poi lo ha negato lo confermano un certo Pino Gramegna che lo dico a chi vi segue è un ex poliziotto lo dicono tante altre persone c'è stato anche un rilievo da parte della polizia su questi soldi contanti in carta allora siccome dalle annotazioni di polizia quindi non da un'indagine nostra ci sono personaggi che hanno avuto dei precedenti di polizia dei precedenti penali importanti noi abbiamo chiesto una verifica perché magari Lilli non può avere dei nemici ma li potrebbe avere magari anche insaputa Sebastiano e tant'è che il GIP dice voi dovete andare a verificare questo discorso della fede dovete andare a verificare questo discorso dei soldi contanti perché allora o abbiamo degli amici che fino a quando Lilli era in vita volevano bene anche Sebastiano e di colpo così senza motivo si riuniscono in un consorzio di bugiardi e lo vogliono rovinare oppure questo dei 20 mila euro deve essere chiarito perché 20 mila euro in contanti per uno che vive di pensione sociale 20 mila euro in contanti da lui ammesso poi ridotto a 10 mila poi a 15 mila poi nel sit che fa di fronte al procuratore capo e la dottoressa Keggia il 28 novembre del 2022 Sebastiano mi sentite nega di aver mai chiesto a Pino Gramenia un ex poliziotto di aver mai chiesto di conservare questi soldi e allora un complotto necessario e allora noi abbiamo detto sentite anche tutta una serie di amici che conoscono bene Sebastiano da tempo tutte le sue attività tutto quello che lui ha fatto nella vita e chiariamo questo aspetto credo che sia doveroso non c'è di nulla ne vogliamo accusare nessuno ma sono tutte zone che devono essere chiarite e finché noi l'abbiamo detto erano gli avvocati estremamente esagerati negli accertamenti adesso lo dice lui quindi evidentemente l'abbiamo convinto allora voglio sentire Giapolo Sardi guardate che questa sera quello che sta dicendo l'avvocato Gentile non è cosa da poco motivo per cui ci vediamo qui questa sera c'è una zona d'ombra c'è diciamo un ombrellone d'ombra su molte cose e quindi ha sottolineato con quello che fino a dove possiamo dire degli aspetti importantissimi secondo me anche voi l'ha citato diciamo altre persone prego avvocato io avrei due domande la prima mettiamoci di nuovo ci immergiamo in un'ottica narrativa dell'ipotesi del suicidio per un momento per un momento e noi vogliamo pensare che Liliana si è infilata due sacchetti di quelli che si usano al supermercato per la frutta e la verdura in testa e si è poi messa in due sacchi neri ok e lo ha fatto senza toccarli questo stiamo dicendo perché non sono state rilevate impronte digitali di una persona che si sarebbe messa i sacchi neri ditemi voi come una persona si può mettere i sacchi neri ok dei sacchi e adesso senza toccarli e non aveva i guanti ecco quando è stato scoperto questo ha cambiato secondo me notevolmente la prospettiva di questa indagine le chiederei un commento su questo e anche le sorprese che alla luce delle nuove indagini potremo avere su questo fronte seconda cosa mi scusi avvocato abuso un po' della sua pazienza gentilmente vorrei chiedere una volta per tutte visto che ci sono aspetti emersi voci quant'altro riusciamo a far chiarezza una volta per tutte dove era esattamente il corpo di Liliana quando è stato trovato nel giorno quel 5 gennaio pomeriggio era esattamente nel punto in cui noi ce lo stiamo prefigurando dove c'era quel famoso involucro metallico che si usa per coprire le persone oppure era più in prossimità della rete metallica che delimita la scarpata facciamo perché siamo stati un po' ambigui su questo ed è rilevante perché la posizione di come viene trovato un corpo rispetto poi a uno spostamento può anche indurre a delle piccole variazioni prego avvocato allora grazie grazie della domanda perché è molto interessante sul discorso del suicidio non bisogna mai 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 dimenticare che c'è la tossicologia che è assolutamente negativa i casi da soffocamento da tacchetto per casistica e letteratura scientifica internazionale sono sempre con tossicologia positiva quindi farmaci la vittima si stortisce non riesce ad evitare altrimenti atti di autoconservazione il cordino di Lilli era lastro il tappeto vegetale sotto il cadavere di Lilli era senza anomalie senza nessun tipo di strappo così come erano puliti i sacchi neri non c'erano stati calchi tenete presente che i casi indicati di suicidio che dovevano avvalorare la tesi secondo i consulenti della procura di suicidio da sacchetto quindi vedete quanta gente fa purtroppo compie un gesto estremo con il sacchetto sono tutti casi che poi a ben vedere erano tutte persone con grosse depressioni che hanno lasciato dei biglietti che si sono stretti al collo dei fulada addirittura il cavo telefonico che avevano fatto uso di alcol che avevano fatto uso di farmaci che avevano fatto uso di droga la tossicologia dei Lilli è pulitissima quindi quei casi anziché diciamo avvalorare l'ipotesi del suicidio la rendono sempre più debole detta dai consulenti dell'EPM questa è la criminodinamica che si dice con forza si dice con forza che Lilli non si è assolutamente suicidata assolutamente non si poteva suicidare in questo modo non aveva senso anche perché tenete presente una cosa che se Lilli realmente avesse voluto fare un gesto estremo compiere un gesto estremo lo poteva fare a chilometri zero perché il stacchetto era a casa il cordino ritrovato in modo così anomalo da Sebastiano Vicentine questo è un altro capitolo che poi quando sarà ne possiamo anche parlare perché sul cordino si è dato credito a Sebastiano Vicentine e non ai polizioni che invece dicono che quel cordino non c'era all'interno quindi non a Nicodemo Gentile che non è nessuno ma ai polizioni dicono con forza che quel cordino in casa non c'era e che lui viene sentito e dice che c'era invece con forza vabbè questo è un altro lato perché lui parla del cordino quando il 9 di marzo gli viene fatto il tampone guarda caso l'11 si scopre che c'era il cordino uguale a quello che è stato ritrovato a collo di Leliana però i poliziotti dicono che il cordino scusate di colpo compare spunta il cordino mi ricordo anche il cassetto lui fa vedere il cordino nel cassetto nelle prime perquisizioni quel cordino non viene trovato lui il 9 di marzo viene cammato dalla questura operante perché gli devono fare il tampone per il prelievo del DNA che poi verrà comparato con parte di quel cordino con quel promosoma Y che hanno trovato sul collo e non c'è assolutamente nessuna compatibilità e questo è un dato che noi abbiamo appreso anche con piacere e affiettato però l'11 di marzo lui dice di aver ritrovato questo cordino in cassetto in cucina quando questo cordino lo dicono i poliziotti nelle precedenti perquisizioni non c'era stato di solito le parole degli uomini di legge fanno fede fino a qual era di fatto comunque questo è un dato che l'altro ognuno poi se legge come vuole questo è comunque un aspetto allora tutti questi elementi si dicono che assolutamente Lilli non si è stuitidata perché l'avrebbe potuto fare a casa con i farmaci che c'erano del marito l'avrebbe potuto fare con le buste che erano nei cassetti con il cordino che era nel cassetto perché doveva andare a San Giovanni e poi vi dico anche un'altra cosa perché abita a San Giovanni voi conoscete la zona sicuramente ovviamente meglio di me chi fa via San Cilino per arrivare al parco non c'è bisogno di arrivare in fondo via Waste e fare poi tutta quella salita che normalmente è riservata alle macchine ma prima della caterma di via San Cilino ci sono due strade che salgono e che portano direttamente al parco in 5 minuti senza bisogno di fare tutto quel percorso gli abitanti di San Giovanni che vogliono andare al parco di solito utilizzano quelle due strade prima di via San Cilino tra l'altro tenete presente che i sacchi neri non erano a casa di vigli e che i sacchi neri da quello che a noi costa l'abbiamo scritto adesso vedremo la verifica non sono della stessa non sono della stessa dimensione vedete quante quante cose dovremmo stare qui per ore sì sì dovremmo stare qui per ore con lei il luogo esatto del ritrovamento del corpo di Liliane hai ragione e questa guarda vi dico un'altra cosa molto importante che si è finita ad ora oltre agli inquirenti gli unici che hanno visto il video il video non è buono il video video di 5 minuti del del sopralluogo siamo stati io e la collega Obitti che è un video di 5 minuti diviso in due piccoli video dove si vede il purtroppo cadavere di Lilli che da quello che costa il sottoscritto sicuramente era vicino la rete era vicino la rete era nella zona della rete perché lo descrive anche il medico legale però quando arriva il medico legale e qua c'è il video fatto dalla polizia che è intervenuta il cadavere era già nel stacco mortuario e quell'atteggiamento quell'atteggiamento e quella verifica è stata fatta finalizzata non a vedere che c'erano tutta una serie di lesioni a un esame esterno del cadavere per capire cosa fosse successo ma per capire se quella persona nel stacco fosse o meno di viana tant'è che si cercava il ciuffetto biondo si cercava la verrupa sul ventre si cercava l'oroggio rossa è stato tagliato la pusta è stato girato è stato mosso il cadavere all'interno tant'è che c'è un operatore che dice proprio per verificare se ci fosse il ciuffo biondo abbiamo fatto 30 facciamo 31 e lo girano il cadavere dopodiché Sacchinetti Cordino Sacchinetti Cordino e le buste vengono messe dentro il stacco mortario sotto la testa di Lilli Lilli viene chiusa il 5 viene portata in obitorio e viene riaperta per la prima volta dopo 5 giorni cioè il 10 di gennaio questa è la storia di allora avvocato aspetti domanda flash vai avvocato il momento del sopralluogo quando arriva la polizia scientifica è quello che nelle carte di intagini viene chiamata come operazione Nemesi guarda questo io non te lo so confermare devo ammettere sotto questo profilo questo vulnus questo vuoto allora il sopralluogo della polizia è quello che è stato documentato io parlo del sopralluogo ovviamente al parco dalle foto ci sono le foto del cadavere di Lilli ci sono tutta una serie di attività fotografiche dopodiché c'è un video che dura 5 minuti più o meno che è nelle carte noi abbiamo acquisito e abbiamo visto dove appunto c'è questa operazione che viene compiuta però quando Lilli purtroppo è già nel stacco perché viene tagliato il cordino viene tolta la busta ma è un'attività che serve soltanto per identificare cioè bisognava capire se Lilli fosse lei o meno tant'è che si andava a cercare il ciucpetto biondo la verruca sul mento e l'orologio dopo di che con tutti quei reperti fondamentali quindi creando una commissione enorme e quindi è inutile che poi io nell'atto della procura trovo scritto che sulla busta sul cordino c'è il sangue di Lilli beh signori io questo ve lo consegno voi che siete giornalisti di cronaca di razza e poi fate voi le vostre valutti certo allora quindi dobbiamo un attimo prefigurarci una situazione di chiaramente passatemi il termine ma legittima manomissione del corpo per riuscire a constatare l'identità innanzitutto potrebbe essere chiunque è chiaro che noi tutti come se si trattasse di suicidio probabilmente sono fatte certe manovre quindi lo spostamento del corpo quindi una posizione diversa da quella del ritrovamento sicuramente c'è il famoso discorso vi ricordate degli arti delle braccia rispetto all'orologio ai bottoni che cambiava delle prospettive perché una si deve mettere così questo viene in qualche modo stravolto primo secondo voi pensate che una persona che va a suicidarsi nel bosco si mette vicino una rete metallica dove poi c'è una scarpata non ha veramente senso una scarpata che precipita verso via Berga in maniera anche importante non ha veramente alcun senso una scena di questo tipo e finalmente l'abbiamo chiarita ci fa pensare a una persona che viene e uso un termine candido depositata per non dire scaricata per non dire scaricata lì ma come lo fanno chi lo fa vabbè chi lo fa è la domanda ma come vediamo le immagini diciamo dell'esterno perché con Gianluca giustamente anche il suo prologo l'abbiamo fatto mi fai vedere Guido la cripta cioè ha un ruolo secondo lei in tutto questo è possibile quel luogo lì che è a pochi passi dal ritrovamento del corpo le chiedo veramente una battuta finale avvocato perché eccolo qui guardate rispetto a quello che abbiamo detto e commentato in ultime settimane dopo le puntate di ring è comparso quel lucchetto quei pannelli in legno che chiudono l'accesso di cui tanto ci hanno parlato ci sono stati da dentro Gian Paolo Sarti e Nicolo Giraldi ci siamo stati se non rubo tempo descriviamolo un flash vi prego perché voglio sentire l'avvocato su questo cosa c'è è un luogo dove sicuramente andavano delle persone insomma degli sbandati non so dei clocher non lo so ma sostanzialmente è chiaro che è un luogo di come dire bivacco c'era c'era un manterasso tutto sporco quindi allo stesso tempo però Gian Paolo se il corpo di Liana fosse stato lì qualcuno l'avrebbe visto però magari è un tipo di ma la domanda da farci ma la domanda da farci è in quel punto esatto che è una situazione come dire a parte logistica di prossimità rispetto al luogo del ritrovamento parliamo di 30-40 metri forse meno ma si realizza un microclima particolare secondo me andrebbe sondato questo me la dice qualcosa sulla cripta anche lei è un sotterraneo fresco sicuramente se questi accertamenti sull'enzima se questi ulteriori accertamenti ricordiamo una cosa chi ci sta seguendo la carta per dare delle informazioni soggettive reali che sono nelle carte che anche i bellici legali della procura parlano addirittura andate a rileggere la posta della consulenza medico legale della procura parlano di un concorso della ipotermia quindi significa che loro qualcosa che riguarda appunto il raffreddamento del calavere hanno avuto modo di trovarlo di verificarlo parlando appunto di ipotermia poi è stato abbandonato questo percorso però nella posta iniziale si parlava fortemente di ipotermia sicuramente se questi accertamenti sul muscolo di Liliana che abbiamo chiesto e speriamo che sia stato conservato come noi assolutamente potrebbe dare delle indicazioni e questo evidente apre un'ulteriore necessità di verifica dove è stata conservata Liliana sicuramente in un posto freddo le dolide del carso mi dicono che durante la guerra venivano utilizzate per conservare gli alimenti con queste escursioni termiche non indifferenti noi siamo in una zona molto fredda e tra dicembre e gennaio non credo che il clima sia allora avvocato allora come hai capito diciamo qui ha tutta la possibilità come tutti sempre abbiamo detto di dire tante cose che forse altrove non ha il tempo ormai vi ho detto tutto no c'è altro quindi rivediamoci grazie davvero all'avvocato Nicodemo Gentile grazie io voglio voglio dire solo una cosa e poi mi fermo voglio ringraziare veramente i giornalisti di Trieste del piccolo di Trieste prima voi che state facendo un lavoro molto 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 bello dignitoso coraggioso coraggioso noi siamo per l'accertamento della verità noi non abbiamo dei pregiudizi e delle ipotesi preconcette vogliamo collaborare con la procura abbiamo una grande stima dal procuratore e di tutti gli uomini della squadra mobile stiamo là a servizio e soldati della verità non salto partiamo dallo stesso principio grazie davvero all'avvocato Ricodemo Gentile che rappresenta fratello Sergio Resinovic fratello di Liliana e l'associazione Penelope grazie a Giampaolo Sarti Nicolo Giraldi Gianluca Paladin per essere stati con noi speriamo direi senza altro questa sera qualche elemento in più lo abbiamo messo grazie a tutti buonanotte da Ring in collaborazione con grazie a tutti grazie a tutti